Benvenuti all'Aleometri di Casanmarco, sito in Di Mercate e vicino a Monza Brianza. Il nostro allevamento fondato nel 1970, allevare i pastori tedeschi non è un lavoro come un altro, è un lavoro fatto di sacrificio, abnegazione, con tanta tanta costanza. Questo ci ha fatto e ci ha permesso per più di 50 anni di essere sempre sulla breccia ai fini allevatoriali e dispositivi e oltre i confini nazionali. La Casanmarco è una resa grande non soltanto la famiglia Dolci, ma è una resa grande anche i nostri collaboratori esterni, ma è giusto riconoscere anche e soprattutto i nostri clienti privati. In 53 anni di attività ci sono clienti che sono appunto arrivati al quinto loro cane perché con cani della giusta longevità e la giusta durata in vita. È un mestiere nostro ricco di sacrificio anche ai nostri cari, ai nostri familiari. I nostri cani fanno parte della famiglia e quindi abbiamo costantemente a che fare con la famiglia allargata. Arrivare in alto è difficilissimo, ma la cosa che è ancora di più è rimanere in alto a distanza di decenni. Qualità e non quantità degli accoppiamenti a tutela delle nostre femmine e a tutela anche della nostra storia che deve essere sempre e costantemente tutelata in virtù del fatto che più si è grandi e più bisogna essere elogiati dagli altri e non auto-incelebrarsi. Questo ci porta a essere appunto dopo 53 anni a essere ancora qui presenti, più che attivi, nella nostra attività. Grazie.